Le 8 di questa mattina, io posso ringraziare il sindaco per il lavoro che sta svolgendo in città, tutta l'amministrazione e la protezione civile. Ho parlato con Angelo Borrelli pochi minuti fa, che era in viaggio per andare a visitare i luoghi del disastro. Siamo tutti quanti nel governo, nella maggioranza vicina alla città di Venezia. Io ho parlato pochi giorni fa con la Paola De Micheli, ministro per le infrastrutture. Al giorno arriverà la nomina del nuovo commissario per il Mose. Il governo vuole terminare quest'opera, che si discute sempre di questi famosi 5 miliardi di spesi. Tra l'altro è un'opera che è pronta al 96-97%. Io l'ho visitata più e più volte. È un'opera fondamentale per salvare Venezia. Occorre togliere qualsiasi tipo di alibi sul funzionamento o meno, occorre finirla. Tra l'altro è un'opera su quale... Lei può ipotizzare una data in cui sarà operativo in Mose? Il prima possibile. Non c'è una data. Si deve essere il prima possibile, perché è un'opera che va avanti da 20 anni, sottoposta tra l'altro ad una situazione scandalosa per il Veneto, oggi che si è abbastanza spenta. Un fenomeno di corruzione immenso che ha visto indagato e poi anche arrestato Giancarlo Galan, ex Presidente del Veneto. E per questo motivo ancora di più occorre dare un segnale velocissimo. E questo governo lo vuole dare. Ripeto ancora una volta, il Presidente Conte sta, diciamo, verificando la situazione in questi minuti e c'è tutta la vicinanza da parte del nostro governo e risponderemo immediatamente alle esigenze di questa città che è un simbolo per l'Italia nel mondo. È il simbolo dell'Italia, come Roma, come Firenze, come Milano, come Napoli. Dobbiamo essere in grado subito di reagire, che tra l'altro però giustamente, lo metto il sindaco, deriva da un sudiscaldamento globale, che è una problematica enorme, che si rivolgerà in tutta la parte costiera del nostro Paese. Attenzione, certi fenomeni, io l'ho visto anche l'anno scorso con la tempesta Vaia, nel Bellunese, da dove io vengo, non è normale come l'anno scorso avere 700 mm di acqua, 70 cm in 4 giorni e 20-200 km all'ora nel nostro Paese o altre maree di questo tipo. Occorre intervenire, il problema ambientale è uno dei problemi principali del nostro mondo. Ce lo chiedono anche le nuove generazioni, ce lo chiedono ogni fine venerdì del mese. Bisogna rispondere in maniera immediata. Senta, poco fa Salvini ha detto, il Mose è pronto ad entrare in azione.